Sono 99.848 i positivi test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 610.600 tamponi effettuati con un tasso di positività al 16,3%. Secondo i dati del Ministero della Salute, 205 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 10.207, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 413.